di jonathan swift i viaggi di gulliver terza parte voce di lorenzo pieri capitolo secondo parte prima i laputiani e i loro costumi idee e conoscenze il re e la sua corte accoglienza che vi trova l'autore timori di quegli abitanti e carattere delle loro donne una folla di gente assisteva al mio arrivo i personaggi che sembravano di maggiore autorità furono i primi a venirmi incontro essi mi guardavano con meraviglia che era perfettamente ricambiata perché non avevo mai visto una razza di mortali così straordinaria per l'aspetto i vestiti e il contegno alcuni di loro avevano la testa inclinata a destra altri a sinistra e i loro occhi erano voltati l'uno verso il naso l'altro verso il cielo sui vestiti portavano ricamate le figure del sole della luna e delle stelle mescolate con quelle di vari strumenti musicali come violini arpe trombe chitarre clavicembali e altri strumenti sconosciuti fra noi alcuni di loro erano seguiti da persone che sembravano al loro servizio ciascuna delle quali portava una vescica attaccata alla punta di una bacchetta dentro a cui stavano come seppi di poi molti fagioli secchi o sassolini con queste vesciche picchiavano ogni tanto la bocca o gli orecchi del loro padrone né da prima poté indovinarne la ragione sembra che codesta gente sia tanto immersa nelle sue profonde meditazioni da trovarsi in uno stato di perpetua distrazione di modo che nessuno può parlare né udire i discorsi altrui se qualche impressione esterna non viene a scuotere i suoi organi vocali o uditivi perciò le persone benestanti hanno sempre seco un domestico battitore o climenole come essi lo chiamano il quale ne risveglia l'attenzione ne escono mai di casa senza di lui il battitore all'incarico quando due o tre persone si trovano insieme di colpire via via con la vescica la bocca di colui che deve parlare quindi l'orecchia destra di colui o di coloro a cui è diretto il discorso ne riesce meno utile il battitore al proprio padrone durante le sue passeggiate col dargli dei piccoli colpi sugli occhi quando quegli sta per cadere in un precipizio o per battere la testa in un palo o per urtare qualcuno o per essere spinto in un fossato questa spiegazione era opportuna per non lasciare il lettore nella perplessità in cui io stesso mi trovai nell'osservare il contegno di codesta gente mentre venivo condotto alla sommità dell'isola dove era il palazzo reale mentre vi salivamo costoro si scordarono parecchie volte di ciò che dovevano fare e mi piantarono lì finché i battitori non ebbero risvegliata la memoria essi non parevano neppure molto impressionati dal mio aspetto dal mio costume straniero dalle grida che la mia vista strappava al popolo meno distratto dei suoi magistrati giunto al palazzo fumo introdotti alla presenza del re il quale stava seduto sopra un trono circondato dai personaggi più ragguardevoli egli aveva davanti a sé un tavolone ingombro di globi di mappamondi ed ogni sorta di strumenti di geometria il frastuono fatto dalla gente che mi accompagnava non lo fece affatto riscuotere tanto era sprofondato nella soluzione di un certo problema e dovemmo aspettare circa un'ora prima che egli finisse codesta operazione due paggi stavano ai suoi lati con le loro vesciche e quando il re ebbe finito il suo lavoro uno di essi lo colpì piano e con grande rispetto sulla bocca l'altro sull'orecchio destro parve che sua maestà si destasse di soprassalto e solo allora dando un'occhiata a me e a coloro che mi circondavano sembrò ricordarsi della notizia del mio arrivo datagli un'ora prima disse non so che cosa e subito un giovanotto con la sua vescica mi si avvicinò e mi diede leggermente con quella sull'orecchio destro cercai di far capire per mezzo di gesti che non avevo bisogno di simile svegliarino ma questo servì soltanto a farmi passare da persona rozza e poco intelligente il re mi rivolse poi diverse domande ed io gli risposi in tutte le lingue che sapevo ma non potevamo minimamente intenderci allora codesto sovrano che si distingueva da tutti i suoi predecessori per la grande ospitalità mi fece condurre in un ampio quartiere del suo palazzo assegnando due domestici al mio servizio fu subito servito in tavola e quattro distinti personaggi mi fecero l'onore di pranzare meco vi furono due portate ciascuna di tre piatti diversi la prima portata consisteva in una spalla di castrato tagliata a forma di triangolo equilatero un pezzo di bove in forma di romboide e un budino fatto a guisa di cicloide la seconda portata si componeva di due anatre accomodate in forma di violini di salsicce e rognoni simili a flauti e corni da caccia e di una costata di vitello fatta come un'arpa il pane veniva tagliato dai domestici che ce lo servivano in forma di coni cilindri parallelogrammi ed altre figure geometriche mentre mangiavamo mi permisi di domandare i nomi di diversi oggetti nella lingua del paese e i miei nobili commensali mi risposero con molta compiacenza in grazia dell'opera dei loro battitori essi speravano evidentemente di poter destare la mia ammirazione per i loro rari talenti allorché fossi in grado di comprendere il loro idioma comunque potrei prestissimo chiedere il pane il vino e tutto quanto mi occorreva terminato il pranzo venne da me un signore seguito dal battitore e provvisto di carta inchiostro e calamaio mi fece capire con cenni d'essere stato mandato dal re con l'ordine di insegnarmi la lingua del paese rimasi con lui quattro ore circa e in questo tempo scrissi moltissime parole con la relativa traduzione di fronte su due colonne inoltre mi feci insegnare diverse brevi frasi il cui significato costui mi rivelava compiendo dinnanzi a me ciò che esse volevano esprimere infine aperto un suo libro il mio maestro mi fece vedere le figure del sole della luna delle stelle dello zodiaco dei tropici e dei cerchi solari e di tutte mi disse il nome poi fece lo stesso per ogni sorta di strumenti musicali e per i principali termini di codesta arte alla fine della lezione mi fabbricai da me una specie di piccolo vocabolario di tutte le parole imparate e grazie alla mia pronta memoria in poco tempo sapevo discretamente la lingua laputiana codesta isola volante si chiamava infatti la puta parola di cui vogli indagare la probabile etimologia mi dissero che nel loro linguaggio antico e ormai disusato l'app significava alto e un tu governatore da l'appunto per corruzione sarebbe derivato la puta questa spiegazione però mi persuase poco sembrandomi alquanto forzata e ne vogli proporre un'altra ai sapienti del paese secondo me la puta deriva da lap uted lap vuol dire riflesso dei raggi solari in mare e uted ala sottometto questa etimologia al giudizio del lettore senza del resto insistervi troppo le persone alle quali il re mi aveva affidato s'erano accorte intanto che i miei abiti erano disordinati e scomposti sicché ordinarono a un sarto di venire la mattina dopo a prendermi le misure costoro esercitano la loro professione in modo totalmente diverso dai loro colleghi europei quel sarto infatti cominciò col misurare la mia altezza col sestante poi prese le dimensioni della mia vita e delle varie membra col metro e col compasso e scritte tutte le cifre sopra un pezzo di carta fece un calcolo assai complicato sei giorni dopo mi portò un vestito che mi stava malissimo ma egli si scusò dicendomi che aveva sbagliato un'operazione mi consolai con notare che tali inconvenienti sono colà frequentissimi e nessuno vi bada durante i giorni che rimasi a casa sia per mancanza di vestito sia per una leggera malattia che ebbi accrebbi molto il mio vocabolario sicché la prima volta che ritornai a corte potei capire gran parte di quello che il re mi diceva e rispondergli alla meglio anche i giorni che rimasi a casa sia per i giorni che rimasi un calcolo assai